Preside, questa bella collaborazione con SAIMA consentirà di rendere, se mi permette, la licenza giornalistica, l'ITIS una scuola anti-Covid? Noi cerchiamo di renderla anti-Covid, nel senso che prudentemente sappiamo che i rischi non possono essere elusi del tutto. La totale assenza di rischi è assolutamente inimmaginabile, però sempre proprio per un discorso di prudenza ci siamo rivolti alla SAIMA che ha corrisposto a questo nostro desiderio di acquisire alcuni macchinari in vista proprio dell'abbassamento di questo rischio stesso. Quindi non siamo esenti dal rischio, questi macchinari non eludono i comportamenti doverosi di prudenza, di distanziamento eccetera, però ci sforziamo di rendere la nostra scuola più sicura possibile. Ecco, questo esame di maturità credo che entrerà un po' nella storia, nei libri di storia per forza di cose. Certamente, un esame come questo si ha memoria solo durante la seconda guerra mondiale, quindi si è trattato di un evento catastrofico. Oggi speriamo che la catastrofe che in parte sia già attuata soprattutto in alcune regioni del nord non si attui nella stessa misura. Ecco, però siamo di fronte ad un evento che è storico. Purtroppo è anche dannoso per i ragazzi perché l'esame in presenza, e noi speriamo che tutto questo possa avere luogo, dovrebbe avere luogo, l'esame in presenza al cospetto dei compagni avrebbe dato loro un significato più profondo della prova che si apprestano a compiere e anche per forse un ricordo più positivo della stessa. Senta, quante scuole però non riusciranno a garantire quello che voi magari speriamo, ecco, nel migliore dei modi riuscirete a fare dentro all'ITIS? Beh, ci sono molti modi per garantire queste condizioni. Alcuni modi non prevedono l'uso dei macchinari. Io vorrei ricordare che noi stiamo sperimentando questi macchinari nell'interesse nostro come scuola, ma anche nell'interesse dell'azienda, la Saima, per potenziare la qualità e l'efficacia delle macchine stesse. Ma anche con le misure tradizionali si può in qualche modo far fronte al rischio di contagio durante l'esame di Stato. Ma anche con le misure tradizionali si può in qualche modo far fronte al rischio di contagio durante l'esame di Stato.